Veri, Niki, ci sono un sacco di novità nel nostro negozietto, devi vederle tutte assolutamente! Perché? Che cosa? Perché fai queste cose? Perché ogni volta devi fare le cose senza di me? Cioè, io non ci sono e tu fai le cose fighe del negozio, ti sembra giusto? Ma l'ho fatto per te! No, non l'hai fatto per me, l'hai fatto solo per te! Scusa! Sei un egoista! Scusa! E ragazzi, come va? Io sono Feriniki! E io sono Stef, questo ci chiamo ShopEkeep! E siamo tornati nel nostro negozietto di ShopEkeep in cui Stef ha fatto tante cose senza di me e io sono arrabbiatissima! Ma devi esserne felice! L'odio, lo voglio eliminare, cioè, davvero! Episodio 4, episodio delle sonde! Faccio il video così oggi? No, fai da brava! Perché così non ti vedo e quindi sto girando dall'altra parte! Ti faccio vedere un sacco di roba bella, quindi fai da brava, vedrai che è una figata pazzesca! Allora, siamo qui perché non ti volevo spoilerare nulla, prima di tutto ti voglio far vedere quanti punti abbiamo, 190 e ti dico... Allora, aspetta, le trappole! No! Mi sto chiedendo dall'inizio della serie! Avevamo detto, nell'episodio 3, locanda e piantine, l'abbiamo decise insieme! Quindi fai da brava! Non mi accontenti mai! Esatto! Non mi accontenti mai! Costano troppo, guarda quanto costa! Adesso ti faccio vedere, guarda! 150! Abbiamo 189, quindi ci escono! Sì, ma a che pro? A che pro chiudere una persona in gabbia? Li voglio vedere in gabbia! Ma li ammazziamo già che ci serve metterli in gabbia! Basta, basta! Perché aspetta, ha senso! Vai! Perché tu li metti in gabbia così i ladri li vedono in gabbia e non rubano più! Allora la scelta da avere a terra è uguale! No, basta, basta! Ti devo ignorare, sono io quello che gestisce il negozio perché qui altrimenti fallisce tutto! Guarda le novità! Allora, tu vedi così e dici cosa c'è di nuovo? Eh, esatto, è tutto uguale! Più o meno! Non ho di nulla? Due robot! Tre robot totali! Non lo vedevo quello! Oh mio Dio! Allora, lui è rimasto quello che sistema gli oggetti! Ok, e ci sta! Lui è assassino per il lato destro! Ok, e ci sta! Lui è assassino per il lato sinistro! Quindi abbiamo due assassini! Sì! Perfetto, perfetto! Più quello che sistema la roba! Sì, ma quello è poco importante! È meglio avere due assassini perché mi piace quando fulminano i clienti che rubano ovviamente, non quelli normali! Lo so che ti piace! Allora, allora, allora! Vediamo un pochettino! Secondo me possiamo subito imparare la locanda e vedere che cosa ci permette di fare! Va bene? Blocca la locanda! Ottanta punti! Yes! E adesso? E adesso? Dov'è? Sì, è aperto! È questo! È aperto! Salve! È il nostro dipendente? Buongiorno! Buongiorno! Siamo noi? Possiamo parlarle? Allora, 1400 cosa vorrebbe? Eh, non capisco! Mi sa che noi qua neanche ci lavoriamo! Mi sa che proprio tu la gestisci! Quindi abbiamo i dipendenti, ok? Esatto! E ci sta gestirla, ci sta, ci sta! Allora, ma se io faccio così? Mi ha dato 1400 gold a caso! Praticamente possiamo investire per mettere più tavoli e facendo più tavoli facciamo più soldi! Dice che facciamo 15 gold per ogni persona che entra e però non possiamo fare molto altro! Scusi signora! Ah, abbiamo solo un tavolo! Solo un tavolo! Eh, però costa 4000 gold che al momento non abbiamo, ci spiace! È un po' da poveracci un tavolo solo, io te lo dico! Vabbè, adesso... Diciamo che non è l'inaugurazione migliore questa, però... Facciamo i soldi per cercare di mettere altro! Qua vedi, possiamo decidere di far offrire qualcosa di interessante! Fatemi capire un po', perché vorrei vendere qualcosa di bello, però costa tutto un sacco! Praticamente possiamo mettere dei punti che cambiano le cose che noi serviamo! Tipo con questo serviamo bistecche e birra e facciamo 13 gold in più per ogni persona che viene nella locanda! Bellina sta cosa! Ma che dici? Sì, è carina! Investiamo dei punti qua per ora? Eh, per ora sì, perché è troppo spoglia, non c'è nulla, quindi mi sembra giusto! Ho messo quindi anche questo della carne, quindi lui adesso, infatti, 28 gold per persona che viene! Appena arriviamo a 4000 gold, adesso capriamo il nostro negozio, veniamo qua e aggiungiamo il secondo tavolo! Sì, mi sembra giusto, mi sembra giusto! Bellissima questa cosa! Sperando che non facciano disastri anche qui! Tu praticamente vieni solo a prenderti i soldi, cioè è una figata incredibile! Perché siamo talmente ricchi che stiamo iniziando a investire, capito? Il nostro negozio è il più rinomato della città, quindi mi sembra anche giusto! Scatto! Mi sono dimenticato di dirtelo! Guarda le foglie per terra! È autunno? Sì! Mi ero dimenticato di dirtelo, è cambiata la stagione! E poi ci sono delle lucine di Natale qui davanti, che secondo me non c'erano in questa casa! Questa qui, guarda! È vero! Cioè la nostra, scusa! Forse non c'erano, però un po' di dubbio, quindi non lo so! Vabbè, avrebbe senso che magari li inizi a mettere in autunno per poi festeggiare il Natale! È il Medioevo, non è che stiamo a pensare a Natale qua! Allora, qui si pensa sempre a Natale! Guarda, i robottini sono già pronti col cappellino, quindi sempre! Anche in estate loro festeggiano il Natale! Oh, buongiorno! Oh, guarda come si mangia la carne! Ma che buona quella bistecca, vero signorina? Di primo mattino per la colazione dei guerrieri! Allora, è buona? Ottimo, sì! Sì? Sì! Perfetto! Anche la birretta che si beve dopo! E tacchete, tacchete, facciamo un nuovo tavolo! E vediamo! Opla! Oh, bello, 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 bello! Perfetto! Ora possiamo... Mi piace un sacco sta locanda! ...tornare a lavorare qui! Tu vai fuori, cerchi una persona che è un mago, di solito sono questi blu... No! Lei? Ecco! Ok, ecco lei! Ci parli, fai offerimento all'item, pacch! E ne hai venduto una! Tu non ci guadagni, ok, perché la vendi al prezzo a cui la compri, però fai la missione! E beh, sì, che comunque abbiamo avuto diverse difficoltà a fare quelle missioni, comunque sono importantissime per i punti! Sì! Quindi mi sembra un'ottima, un'ottima tattica! Vero? Le offerte invece ancora non abbiamo scoperto niente! Eh, no, secondo me è qualcosa da sbloccare, però non l'ho trovata, non so che dirti! Eh, vabbè, rimarranno così vuote! Un po' misteriosa! Facciamo i tirchi, va? Esatto! Facciamo i tirchi! Adesso stiamo spendendo un sacco di soldi, quei robotini! 125 ogni minuto che passa, ok! Però allo stesso tempo possiamo proprio starcene beati in giro, a fare un po' quello che vogliamo! Non dobbiamo più inseguire i ladri, non ci interromperanno più quando diciamo cose importanti! Le intro, le outro, finalmente non verranno interrotte! Esatto, perché lo fanno sempre nei momenti peggiori, quindi mi sembra giustissima! C'è qualcosa? No! Oh, ma si stanno divertendo la nostra taberna! Che bellini! Ma ciao, bellissimi! Volete un'altra bistecca? Offre Steph! No, no, è vero! Non offrire nulla, che qua dobbiamo guadagnare! Ti devo far vedere una cosa! Dimmi! Ah! Uno, due, tre, quattro! Cioè, ci siamo allontanati per cinque minuti contati! Cinque minuti, torniamo e troviamo quattro ladri! Cinque, ce n'è anche uno lì! Vabbè! Ma dai, ma ragazzi li avete un po' sterminati! Forse state esagerando qua, eh! Qualche ladro ogni tanto fatelo scappare, dai! Hanno fatto benissimo! Almeno sappiamo che sono super efficienti! Quindi è una cosa buonissima! Ormai possiamo non stare al negozio, possiamo andare in giro a fare un po' quello che vogliamo! È una figata! Cioè, siete dei disgraziati, dei disgraziati incredibili! Ma dai, dai, loro si divertono a rubare! Noi facciamo anche buoni prezzi, ma dico io, comunque... Ma se aumentiamo tutto al 130%! Perché dobbiamo anche guadagnare, non è che possiamo fare i poveracci qua! Eh, ma ci sono guadagni e guadagni! Raccogli anche questo, lo rimettiamo e qui, perfetto! Cos'era? Ah, ne ha ammazzato un altro proprio a fianco a noi! Va bene! Cioè, non fa il distratto un attimo, eh! Guarda che sono... Ti giri e ne hai già morto un altro! Ogni volta che sei distratto, cioè, se rimani a guardare non è capita mezzo? Se ti distroi un attimo ne hai tipo 10, capito? Vabbè! Abbiamo venuto tantissime cose a mano! 110 punti di nuovo! Li usiamo per imparare a fare le piantine! Sì, mi sembra giusto! Anche perché la locanda è stata un po' una delusione! Mi aspettavo che almeno potessimo gestire qualcosina e invece fa tutto da sola! Almeno dispiace! No, ci sta anche perché noi dobbiamo comunque stare dietro al negozio! Esatto! Siamo prima di tutto dei negozianti! Però avrei voluto fare qualcosina in più! Quindi vediamo un pochettino com'è anche il giardino! Ok, allora, tenga robotino perché qua... Allora, prima di tutto aumentiamo a 140 che qui dobbiamo fare un po' di soldi, per favore! Piazza tutto e andiamo a vedere... Ma è fantastico! Io penso che sarebbe stato qualcosa di piccolino invece gigante! Bello! Ok, e come piantiamo? Forse dobbiamo ordinare i semi, sì! Oh, che bello! Aspetta, cosa prendiamo? Allora, abbiamo... Fammi vedere... Possiamo fare il cocco! Oh, che bello! Finalmente possiamo fare il cocco! Ne ordino otto! Vai! Ma prendi anche qualche altro semino! Sono curioso di vedere! Mi sono fatto prendere la fuga! Allora, vediamo un pochettino! I funghi voglio! Abbiamo un po' di funghi! Ti faccio quattro funghi! Poi un po' di barbabiettole! E... Ti faccio vedere uno piazzato, robotino! Ti prego! Dove li metti? Lo vogliamo subito vedere! Sarà sicuramente insieme alle pozioni! Oh, che bello! Ma hai letto quanto vale? 154! Eh sì! Venite a bere un po' di cocco! Abbiamo anche le bevande adesso! Verdura fresca! Di tutto! Però sicuramente il cocco si vende meglio d'estate! Eh, molto probabile! E noi siamo in autunno! Perché infatti ti ricordi che nella stagione estiva lo cercavano un sacco di pietti! Ma noi ancora non l'avevamo sbloccato! Ok, ok, ok! All'acqua ha un po' di barbabiettole! Mi sembra giusto! È strano però! Sono arrivati con un ordine di ritardo! Allora, queste non... Magari ci mettono più tempo ad arrivare essendo una cosa molto particolare! Boh! Vabbè! L'importante però è che... Mi è piaciuta la tua teoria! Mi è piaciuta! È che le possiamo anche piantare, vedi? Sei un disgraziato tu, mi stavi già facendo credere che non si potesse fare! Invece va, 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 va! Scusami, scusami! Le piantine le possiamo piantare! Sono carinissime! Quindi adesso ogni tot veniamo a controllarle! Le prendiamo quando sono pronte! E a quel punto credo che le potremo vendere! Ma i funghi sono già pronti? No! Stanno... Stanno brillando! No, 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 no! Stanno crescendo, vedi? Vedi? Eh sì, stanno diventando giganti però! Belli, belli, belli! Ma se sono pronti? Eh sì! Perché questi non mi li dà da prendere, neanche questi! Anzi, sì! Ma dici che hanno una crescita così veloce? Sì! 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 Ma le devi proprio controllare velocissimo perché qua ti marciscono in due minuti! Va bene! Va bene, va bene, va bene! Robotino, tutto al 140% come fai sempre tu! Vediamoli piazzati quanto sono carini! Soprattutto se qualcosa viene venduto, ok, altrimenti io non ne prendo più di piantine, cara! Anche se ti piacciono, se non si vendono, non si vendono! Sto pensando, magari vanno vendute in una stagione particolare, capito? Perché comunque anche le verdure hanno le proprie stagioni! Però forse possono servire metti anche i maghi per fare le pozioni! Però essendo funghi e barbabiettole, magari ci fa proprio piantare le piante che sono di quel periodo! Quindi, teoricamente potrebbero comprarle! Vedremo, vedremo! Dove li ha messe? Le sta piazzando adesso, ho proprio iniziato adesso! Attenzione! Oh no, aspetta, 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 aspetta qui qua, che se no ci crolla tutto! Sì, l'ho messo lì nello scaffale! Funghetto! Però voglio vedere le altre! Funghetto! E dove sono finite le altre? Non lo so! Robotino, dove hai deciso di metterle? Una barbabietola! È strano vendere anche queste cose! Infatti per ora noi le abbiamo vendute neanche per sbaglio una, quindi... Sì, è parecchio strano soprattutto venderle così in mezzo ad altre cose! Ecco qua! Arrivederci, grazie per aver comprato! 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 E grazie anche a lei! Altri due, dai, vai, facciamo strike! Ok, grazie, meno male che qualcuno ancora c'è! Che poi c'è, neanche si spaventano, capito? Se vogliono rubare, rubano lo stesso, anche se quello prima di loro è... Guarda, un altro! Ecco qua, ecco qua! Ma scusate, ma... Come non detto proprio! Almeno provate a rubare le barbabietole, così ci tranquillizziamo e non pensiamo di aver buttato dei soldi! Esatto, esatto! Rubate la verdura, esatto, i funghi! Ecco qua! Ma un altro? Eh sì, ho visto la luce, quindi per forza! Io però non so dove! Allora, ta, 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 c'è posto? Sì! Eh, siamo un po' pieni di cose, un po' pieni, sì, sì, sì! Eh sì, c'è rimasto poco spazio per vendere! Eh, allora, buongiorno, vuole una verdunina? No? Grazie! Non mi interessa? Niente! Niente! Le abbiamo comprate per nulla, dice? Le ho comprata! Ha preso una barbabietola! Grazie, signor Mago! Ha preso una barbabietola! Grazie! Allora? Stavo pensando, dico io, dico io, vado io! Dillo! Che probabilmente le verdure... Ah, diciamo perché stava correndo, ok! Le verdure, questo tipo di cose le prendono i druidi, perché se ci pensi, loro fanno tutte le loro medicine con le piante! Sì! Le piante, le verdure, tutte queste cose! Quello che voglio dire io, è che le barbabietola le ha comprata il Mago perché magari la usa per farsi delle pozioni o qualcosa del genere! Esatto, però se ci pensi, quello weed che dovrebbe essere dell'erba semplice, quindi delle erbe... Magari le prende il druido insieme ai funghi! E anche i funghi, comunque, se li prendi crudi e li schiacci, secondo me si possono fare delle medicine, magari ci proviamo in casa, facciamo delle pomagline... No, no! Non sei d'accordo? Questo continua a farci 500 gold, non è male, però i robottini ci costano circa 1.500 al giorno! Eh, sarebbe bello rifarci almeno quei soldi, almeno quelli, e invece no! Comunque, ci fermiamo così per questo episodio, come sempre, grazie mille a chi continua a seguire questa serie, lo scorso episodio è andato davvero bene, 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 poi ci mettete un sacco di like su quelli che lo guardano, quindi lo apprezziamo un sacco, noi continuiamo a piacere! E anche i commenti, c'è chi lo guarda è sempre felicissimo di vederlo, quindi a noi fa un sacco piacere perché questo gioco ci piace davvero tanto, quindi lo continuiamo per forza! Esattamente! Beh ragazzi, vi lascio così sul tutto, lasciateci un bel like! Questa è la prima volta che ho veduto il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima!